Amici telespettatori ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. E' stato approvato dalla Giunta di Cava dei Tirreni l'atto di indirizzo per l'indizione dell'avviso pubblico per la gestione e la coprogettazione della Casa del Dopo di Noi che sorgerà nel rinnovato Palazzo Sparano. La Giunta Comunale di Cava dei Tirreni nella seduta di giovedì 8 agosto ha approvato l'atto di indirizzo per l'indizione dell'avviso ad evidenza pubblica riservato a denti del terzo settore per la gestione e la coprogettazione dei servizi della Casa del Dopo di Noi nel ristrutturato Palazzo Sparano in via Carlo Santoro. L'antico edificio secentesco è stato completamente ristrutturato e adattato alle necessità della nuova destinazione, con ascensori e l'eliminazione delle preesistenti barriere architettoniche, con l'adeguamento degli ambienti alle nuove funzioni previste e alle esigenze di comfort bioclimatico. In particolare, il piano terra è riservato al front office, amministrazione e ai numerosi laboratori di supporto educativo e terapia occupazionale. Il primo piano è stato invece riservato alla domiciliarità, con camere da letto, servizi attrezzati per disabili e un mini appartamento composto da soggiorno cucina, camera da letto e servizi. Inoltre, il grande terrazzo del primo piano sarà in gran parte attrezzato con un piccolo giardino pensile sensoriale terapeutico. Per la stimolazione cognitiva degli ospiti della struttura, con spazi appositamente creati per favorire tutti i sensi. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Vincenzo Servalli. Sono veramente molto contento perché questo era un mio obiettivo, un nostro obiettivo che avevamo indicato già nel programma del mio primo mandato. E' quello di dare un segnale di grande civiltà, a mio avviso, realizzando da parte di un'amministrazione pubblica, di un comune, un dopo di noi. Cioè un luogo nel quale, un domani, delle persone con disabilità adulte possono trascorrere il loro tempo e la loro vita in un contesto molto simile a quello della famiglia, a quella della nucleo familiare, a quello della propria abitazione. Uno dei problemi che il nostro paese ha rispetto alla disabilità è che c'è un certo livello di assistenza, anche significativo e importante. L'Italia ha una legislazione di avanguardia da questo punto di vista, per le persone con disabilità, per i bambini. Poi a un certo punto, quando fanno 18 anni questi ragazzi, si perdono un po' dall'ottica anche delle istituzioni e soprattutto poi i genitori, che sono quelli che poi si fanno il maggiore carico durante il percorso di vita di questi ragazzi, cominciano ad avere la preoccupazione di che cosa accade per questi ragazzi, una volta che poi, come il normale ciclo della vita, i genitori o non ce la fanno più o non ci sono più, perché nessuno di noi è eterno per stare vicino a questi ragazzi. Allora, il dopo di noi, la risposta alla preoccupazione dei genitori di che cosa accade al loro bimbo, ragazzo, giovane, adulto, disabito, una volta che loro non ci sono più. Insomma, era un obiettivo importante. Cava dei terreni da questo punto di vista, da un segnale di grandissima avanguardia. In relazione alle dichiarazioni del ministro Calderolli sulla spesa delle regioni e il raffronto tra Campania e Veneto, i dati forniti sono fuori della realtà. Intanto, perché non si chiarisce se sono riferiti all'ente, regione o in generale alla spesa pubblica? In ogni caso sono cifre del tutto spropositate, è quanto si legge in una nota diramata dalla regione Campania per fare chiarezza sull'argomento. Per quanto riguarda i costi energetici, la regione si muove nell'ambito di un contratto CONSIP su cui pesa una penale del 10%, dovuta a pendenze risalenti a tempi passati e fatturati a carico della regione. Andrebbe poi fatta un'analisi seria dei servizi gestiti dal pubblico o dal settore privato. I depuratori in Campania sono tutti a carico del pubblico, diversamente che in altre regioni. Dunque il raffronto tra la Campania e il Veneto non ha alcun fondamento reale. Sarebbe bene, precisa infine la regione Campania, evitare operazioni di pura demagogia con numeri campati in aria che nascondono le sperequazioni reali relative al divario di spesa pubblica allargata tra nord e sud e nasconde soprattutto un dato scandaloso relativo al riparto del Fondo Sanitario Nazionale nell'ambito del quale la regione Campania ancora oggi è la più penalizzata d'Italia, derubata nell'ultimo decennio di almeno 2 miliardi e mezzo. La cronaca, controlli straordinari della Polizia di Stato, venerdì sera, nelle zone della Movida del Comune di Nocera. Vediamo. La Polizia di Stato ha svolto un'operazione straordinaria di controllo del territorio nel Comune di Nocera. In particolare, sono stati effettuati numerosi controlli durante la serata di ieri, venerdì 9 agosto, lungo le vie della città ad alta presenza di veicoli in transito, nonché nelle zone pedonali del centro frequentate da molte persone. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla zona della stazione, densamente frequentata anche negli orari serali, soprattutto da cittadini stranieri. I controlli su strada sono stati svolti con gli equipaggi del reparto Prevenzione e Crimine Campania. Inoltre, nella zona della Movida, sono stati sanzionati due esercenti, in quanto sorpresi dagli agenti del commissariato di Nocera Inferiore, a somministrare alcona a minori. Infatti, in un circolo, l'esercente è stato beccato mentre mesceva bevande superalcoliche a dei ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Inoltre, sono stati controllati alcuni distributori automatici, che per legge devono verificare l'età del cliente prima di poter erogare la bevanda alcolica. Uno di questi è risultato irregolare e quindi il relativo esercente sarà sanzionato amministrativamente. Complessivamente, sono state controllate circa 170 persone e 70 veicoli. I controlli hanno riguardato gli avventori della Movida del centro cittadino. Costiera Amalfitana, carabinieri, associazioni ed enti locali uniti per contrastare le stragi del sabato sera attraverso l'iniziativa Bevi Consapevole. Al via il 14 agosto l'iniziativa Bevi Consapevole, nata con l'obiettivo di prevenire gli incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol e aumentare la consapevolezza, in particolare nei giovani, sul tema del consumo responsabile di sostanze alcoliche. L'Arma dei Carabinieri di Amalfi si è fatta promotrice di questa iniziativa coinvolgendo il Rotary Club Costiera Amalfitana unitamente al Dipartimento Dipendenze dell'Asla Salerno. Si tratta di un progetto che prevede una serie di presidi notturni nelle aree della Movida in Costiera Amalfitana dove chi lo desidera potrà sottoporsi gratuitamente all'alcol test, accertando così le proprie condizioni prima di mettersi alla guida. L'idea progettuale è nata durante gli incontri sulle tematiche della legalità tenuti dall'Arma dei Carabinieri in un istituto di istruzione superiore di Amalfi. In tali occasioni si è reso evidente il bisogno di far comprendere ai ragazzi gli effetti concreti che l'alcol produce sull'organismo, al fine anche di far comprendere loro il perché delle norme previste dal Codice della Strada. I giovani che si sottoporranno al test riceveranno una consulenza qualificata sia sugli effetti che l'uso di sostanze alcoliche produce nell'organismo, in particolare quando si guida, sia sul relativo quadro normativo e regolamentare vigente. I Carabinieri garantiranno un appoggio logistico, il Rotary Club Costiera Amalfitana garantirà personale medico volontario, la rete farmacie Costa da Amalfi fornirà gratuitamente l'etilometro e kit monouso sterili per effettuare i test, il Comitato Croce Rossa Italiana della Costiera Amalfitana garantirà personale volontario, gazebo e automedica e i locali forum dei giovani contribuiranno a creare un'atmosfera di piacevole intrattenimento. Le giornate in cui verranno predisposti i presidi nei vari comuni della Costiera sono il 14 e il 28 agosto a Maiori, 17 e 21 agosto a Positano, il 24 agosto ad Amalfi. Sversamenti fuori controllo in mare. Il sospetto di scarichi illegali di acque nere e di diportisti poco distante dal porto turistico marina da Rechi. Il mare salernitano durante alcuni giorni della settimana ed in modo particolare nei weekend diventa impraticabile per la presenza di residui in mare che fanno pensare a scarichi di acque nere e di imbarcazioni. Urge incrementare i controlli per salvare l'estate e questi giorni di ferragosto in spiaggia. Un appello è quello rivolto dal consigliere comunale, capogruppo di oltre Donato Pessolano, al sindaco di Salerno, al prefetto, alla capitaneria di Porto e al presidente di marina da Rechi Agostino Gallozzi affinché si possa procedere a svolgere tutte le azioni necessarie per attenzionare questo fenomeno che macchia la qualità delle acque salernitane. Purtroppo mi sonvengono spesso segnalazioni da parte dei bagnanti che lamentano questo mare purtroppo sporco e chiaramente soprattutto nella prossimità del porto marina da Rechi spesso mi riferiscono che ci sono dei fenomeni di abbandono, di scarico di liquami da parte dell'imbarcazione dei diportisti che prendono il largo, chiaramente, io aggiungo, per essere un po' più scariche e continuare la navigazione in maniera più leggera. Io penso che bisogna intervenire sinergicamente un po' tutte le autorità competenti sia per ciò che riguarda magari con dei droni e chiaramente controllare proprio nei prossimità di questa struttura e sia da terra chiaramente con controlli di registri del carico e scarico appunto dei rifiuti che si trovano sulle imbarcazioni. Lei ha fatto appello alla massima rappresentanza di governo, al prefetto di Salerno, ma anche alla Capitaniera di Porto, alla Guardia di Finanza, insomma alle forze dell'ordine che sono deputate al controllo e alla sicurezza in mare. Sì, ho fatto appello appunto al prefetto che è la massima autorità cittadina, ma allo stesso tempo all'amministrazione comunale che il sindaco potrebbe sicuramente far intervenire il prefetto in tal senso, con un'operazione sinergica da parte della Capitaniera di Porto, da parte della Guardia di Finanza e tutte le autorità competenti a far sì che possano risolvere questo fenomeno che purtroppo si sta verificando in questi giorni, ma è da anni che si sta verificando. Quindi chiediamo una forte iniziativa da parte di tutte le autorità competenti. Io ho segnalato quello che in effetti i cittadini bagnanti mi hanno posto all'attenzione, ma sicuramente il fenomeno non riguarda solo chiaramente il Marina d'Arechi, che riguarda tutte le strutture che possano avere dei portisti o anche semplicemente le navi di carico e scarico merci del porto. Per questo ho fatto appello a far sì che si mettono in campo dei droni che possono verificare e vigilare su tutta la costa salernitana. Il Comune di San Marzano sul Sarno accede a una serie di finanziamenti per le attività sportive destinate ai giovani. Il Comune di San Marzano sul Sarno è riuscito ad accedere a un finanziamento di 20.000 euro per permettere di mettere in atto dei progetti che riguardano svolgimento di attività sportive per i giovani cittadini dai 6 ai 17 anni, grazie ai fondi provenienti dal PNRR che sono stati resi disponibili in base alle normative vigenti emanate dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'amministrazione comunale del primo cittadino Andrea Annunziata dunque ha ottenuto il posizionamento in graduatoria insieme a un esiguo numero di altri comuni che avranno accesso al finanziamento, che darà modo di raccogliere le manifestazioni di interesse per attuare programmi di promozione del diritto allo sport per minorenni. Il progetto viene reso noto dall'amministrazione comunale ed è stato fortemente voluto dal consigliere con delega allo sport Viaggio Calabrese, il quale si è attivato subito dopo l'insediamento dell'assise cittadina che risale allo scorso 11 giugno per produrre tutta la documentazione necessaria per offrire ai piccoli cittadini questa nuova possibilità. La progettazione è poi arrivata in giunta comunale con la collaborazione dell'assessore Colombo Farina ed è stata approvata sotto forma di delibera e a breve vedrà la sua realizzazione. Ci possiamo fermare per qualche istante. Dopo dieci anni di esperienza nel mondo della comunicazione e della pubblicità, Cava Sviluppo Communication amplia i suoi servizi. Con il nostro team di professionisti affianchiamo la tua azienda dalla progettazione del brand e del logo. La seguiamo passo dopo passo nella comunicazione rivolta ai clienti. Creiamo il tuo sito internet e di commerce per la vendita di prodotti online, ma progettiamo e realizziamo per te anche materiale pubblicitario come cataloghi, brochure e packaging del tuo prodotto. Uno dei nostri punti di forza è la produzione di format televisivi e radiofonici, video promozionali e spot pubblicitari. E ancora, creiamo contenuti e gestiamo le tue pagine social. Loro ci hanno già scelto. E tu cosa stai aspettando? E avremo finalmente acqua pura, limpida e cristallina. Scusate, ma l'acqua dell'osino è già pura e cristallina? Facciamo una cosa. Ma è vero, quest'acqua è più pura dell'acqua san brillante. Veramente l'avevo detto io, eh. Zitto, mazzo! Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. In serata, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Sport calcio, Giuseppe Fella è tornato a far parte della Cavese. L'attaccante ha espresso i suoi buoni propositi per la stagione 2024-2025. È Giuseppe Fella il giocatore di maggiore esperienza tra quelli che sono attualmente nella rosa della Cavese. Attaccante, arrivato in prestito dal Palermo con obbligo di riscatto, dopo la stagione fatta a Latina, compirà gli anni proprio domani. E dovrebbe fare il vicecapitano, nel caso la fascia dovesse essere indossata da Luca Piana. Questo sarà visto nei primi test stagionali. È un classe 1993, per caratteristiche gradisce giocare qualche metro dietro alle punte, ma non disdegna il ruolo del centravanti. 11 gol nel campionato di Serie D 2017-2018, più altri due nei play-off. Altri 11 gol li ha segnati nel successivo campionato di C, senza qualificazione ai play-off. Questo sempre con la maglia della Cavese. E diverse sono state le belle giocate offerte da Fella, il che lo ha fatto entrare nei cuori dei tifosi Aquilotti. Ascoltiamo le sue impressioni due settimane dopo il ritorno alla Cavese. L'emozione sarà tanta, sono contento. So il calore della piazza, so che sono visto molto bene, voluto bene. Darò tutto me stesso per ripetermi come le annate fatte. Speriamo di ottenere ottimi risultati di squadra, prima di tutto. Il duo d'attacco che dovrebbe arrivare al campionato di Serie C dovrebbe essere composto da Fella e Sorrentino. Con Daniele mi trovo molto bene, anche perché siamo in camera insieme e c'è un grande feeling. Un ragazzo eccezionale e ci capiamo che abbiamo la stessa idea di calcio. Siamo simili a livello calcistico e ci attendiamo una volta uno avanti e una volta l'altro dietro. profondità, cerchiamo di svariare sempre. Nelle ultime stagioni Fella ha fatto più fatica a giungere alla doppia cifra. Quanto a gol segnati potrà riprovarci, ma è ugualmente importante che la Cavese resti tra i professionisti, che è l'obiettivo minimo. Non mi sono posto a un limite, diciamo. Io voglio che la squadra si salva al più presto possibile, che ci divertiamo e facciamo un grande campionato. Giuseppe Fella fisicamente sta bene, avendo cominciato la propria preparazione col Palermo già ai primi di luglio. Può dunque fare la differenza in questa fase dell'anno per gli Aquilotti? Sì, diciamo che fisicamente sto bene. Ho fatto un altro ritiro, si sentono un po' le gambe, la pesantezza delle gambe, però stiamo trasformando e alleggerendo tutto. Poi quel che verrà verrà, non mi interessa fare 10-15 gol, sono contento che la squadra si salva, poi che ben venga la doppia cifra. Il telegiornale è terminato, l'informazione di RTC Quartarete ritorna alle prossime edizioni. Grazie per la cortesia e attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!